Questa che abbiamo intrapreso oggi è un'iniziativa che portiamo avanti in collaborazione con la Confartigianato, con la Camera di Commercio, con il Comune di Ancona e con altri enti che poi man mano si stanno affiancando e si stanno aggiungendo al gruppo organizzatore o comunque promotore di questo progetto che si chiama Un Design per Ancona. Si tratta appunto di riqualificare la città di Ancona attraverso interventi di Urban Design, di Green Design, comunque interventi che riguardino la ristrutturazione e la riqualificazione soprattutto di alcuni siti particolarmente bisognosi da questo punto di vista. In modo particolare oggi il nostro intervento è quello che riguarda la riqualificazione di Piazza Pertini, quindi abbiamo sottoposto un sondaggio ai cittadini, quindi chiunque vuole può compilare questo questionario e in base ai risultati del questionario che verranno poi valutati e studiati da un gruppo di ricerca si passerà poi alla fase progettuale vera e propria, quindi i nostri ragazzi saranno impegnati in un progetto ad hoc, studiato appositamente sulle esigenze dei cittadini e quindi penso che sia uno dei casi, dei pochi casi in cui il cittadino può esprimere un proprio parere e vedere anche in parte spero realizzato quello che poi era stata magari una sua idea o una sua utopia potremmo dire insomma. Speriamo poi che si possa fare sinergia tra l'amministrazione comunale, tra la Confartigianato, tra i vari enti che in questo momento puntano molto su questo progetto.